Mancano solo la piantumazione dell'aiuola centrale e la segnaletica orizzontale e verticale. Poi la rotatoria di Pagliari che unisce la salaria alla provinciale per Spinetoli e Via De Gasperi sarà ufficialmente inaugurata da provincia e comune. Un'opera costata 436 mila euro ma utile alla collettività sia in termini viari che di vivibilità ambientale. Un'opera viaria molto importante per la comunità e anche molto attesa. E' un'opera importante programmata dalla provincia nel più ampio progetto di sistemazione di vari incroci della salaria. Era in precedenza già stata realizzata quella a Castel di Lama e che per noi ovviamente rappresenta l'eliminazione dei semafori e come dicevamo l'altra volta anche rendere più scorrevole quindi anche dal punto di vista ambientale evitare le macchine ferme accese con code ai semafori. All'inizio si temevano ritardi nella realizzazione dell'intervento e parcheggi in numero ridotto. Ipotesi quest'ultima scongiurata. Alla fine come si può vedere i parcheggi non sono diminuiti, anzi sono più ordinati e da questo punto di vista diciamo adesso sono contenti. L'unico problema sono stati un po' i tempi lunghi della realizzazione. E dopo la rotatoria il comune di Spinetoli si prepara a portare a termine un'altra importante opera viaria cioè la circonvallazione est che collegherà la rotatoria in uscita dall'Ascoli Mare a tutta la zona di Sampio.